Tanti sono stati derby, vittorie, sconfitte, pareggi, sempre una partita tribolata perché emotivamente è una partita che ti crea adrenalina, ti crea suspense e quindi può accadere di tutto. Infatti i risultati poi stanno là, partite che abbiamo perso per 3-0, 4-0, altre abbiamo pareggiato negli ultimi minuti, quindi è una partita a parte. Io credo che sia Roma e Lazio si stanno facendo valere in questo campionato, due grandi squadre, la Lazio credo sta ritrovando un po' lo spogliatoio, la voglia di vincere, di fare il gran passo e quindi per me, secondo me, io vedo che la Lazio può fare un buon risultato domenica. Se sente lo tifo? No, io credo che, sono sicuro che domenica la tifoseria si farà sentire perché la Lazio merita che abbia vicino la propria tifoseria perché è il dodicesimo giocatore in campo e quindi io spero che i tifosi apprezzino anche quello che sta facendo il presidente per vincere qualcosa. Io credo che tutti quelli che hanno vissuto quel grande periodo della Lazio poi si sono fatti valere nel mondo professionale. Vediamo Simeone, Malcini, grandi opinionisti e quindi credo che Inzaghi abbia portato alla Lazio quello che gli mancava, cioè l'uomo dello spogliatoio, l'uomo che sa farsi valere non solo sulle dote tecniche ma anche su quello che è la cosa più importante, l'amalgama della squadra. Grazie.